Con il mercato quasi agli sgoccioli ricomincia a parlare il campo. Il Pescara riparte dal quarto posto in classifica e dalla trasferta di Castellammare di Stabia contro i campani ultimi in classifica e con poche speranze residue di evitare la retrocessione. La Juve Stabia si intanto assicurata al casolano Manuel Giandonato, oltre al ritorno del portiere Benassi e gli arrivi di Falco e Piccioni, partiti tra gli altri Calderoni, Doninelli e Murolo. Per il momento sarà invece un Pescara uguale a quello che abbiamo visto prima della pausa invernale. I nuovi arrivati, il 21enni Milicevic e Caprari, dovranno aspettare per mettersi in mostra. Non vedremo più Frascatore, Viviani e neanche Piscitella, che già avevamo visto davvero poco in campo, tornano alla Roma nell'affaire Caprari. A Pescara anche il 19enne portiere lituano Thomas Svedkauskas. Se dovesse giocare qualche partita sarebbe per noi quasi impossibile pronunciarne il cognome. Le conferme sulle operazioni in entrata dal Presidente Daniele Sebastiani. Milicevic è un giovane che seguiamo già da un po' di tempo, è il frutto del lavoro che stanno facendo i nostri responsabili dello scouting ed è chiaramente un giovane di grande prospettiva, anche se nazionale, già nazionale, già gioca in Serie A nel suo paese, ha giocato in Serie A nel suo paese già da un paio d'anni, però sicuramente un giovane di grande prospettiva. Mi auguro che possa darci le stesse soddisfazioni che ci comincia a dare Zuparic dopo il primo periodo in cui ha avuto bisogno di un po' di inserimento. Però Gianluca Caprari è un ritorno graditissimo perché secondo me è un giocatore importante, un giocatore che ha bisogno di sentire la fiducia intorno a sé, è un giocatore che a Pescara ha fatto benissimo sia nel secondo periodo dell'anno di Zeman che anche l'altro anno, nonostante l'annata sciagurata, penso che sia uno dei pochi che si è salvato ieri l'altro anno a Pescara e quindi è un graditissimo ritorno anche perché viene con tanta voglia e soprattutto grande disponibilità a mettersi in gioco insieme agli altri compagni, ma con la voglia e la consapevolezza che Gianluca Caprari torna a Pescara per essere un giocatore importante nel futuro del Pescara. Si torna anche a parlare del centro sportivo La Casa del Pescara. Si attende che il comune di Silvi deliberi sul progetto, poi sarà dato il via ai lavori. Sarà il 35enne Filippo Merchiori di Ferrara a dirigere la prima partita del 2014 dei Biancazzurri e domani Pasquale Marino festeggerà le 100 panchine in Serie B, anche se per il pacato tecnico siciliano festeggiare è una parola grossa. Sicuramente non per nostra volontà qualche trattativa è saltata, per cui non abbiamo avuto neanche il tempo di preparare altre soluzioni tattiche, perché se non hai puoi anche variare qualcosa senza stravolgere il tutto e non c'è stata la possibilità perché pensavamo proprio di chiudere qualcuno in quel ruolo. Così non è stato, per cui ci dobbiamo adattare. Io preferisco non parlare perché ho parlato già 15 volte, ho letto di giocatore e ho detto se non li vedo qua non ne parlo, quindi è meglio non parlarne e pensiamo alla partita di domani. Grazie a tutti.